Il caldo e la solitudine minacciano gli anziani, non lasciamo di soli. Sono le parole di Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia, diffuse dalla diocesi. Per il presule pugliese il caldo eccezionale di questi giorni è pericolosissimo per gli anziani, ma molto di più lo è la solitudine. Tutti stiamo facendo esperienza di temperature proibitive in questo periodo a Foggia e chi può va in vacanza o accende l'aria condizionata, ma molti anziani non hanno queste possibilità, spiega Monsignor Ferretti, il quale sottolinea anche che in questo periodo si registrano molte morti, talvolta per semplice disidratazione. Bastano piccole cose per salvare la vita di una persona anziana, gesti semplici come dare acqua da bere, ma occorre accorgersi di loro, chiosa il presule, visitare un vicino di casa che vive solo, suonare il campanello per fare un saluto, passare a vedere come sta, se ha bisogno di qualcosa, può salvare una vita. La parola chiave è vigilare. Se il nostro vicino anziano ha le finestre sempre chiuse oppure non vediamo mai le luci accese e non sentiamo il rumore della televisione, bussiamo alla porta di casa per accertarci delle sue condizioni. E poi la raccomandazione del Vescovo ai fedeli. La compagnia, anche se breve, per chi è solo e una medicina dal grande potere può salvare la vita. Infine l'invito è rivolto a tutti i cittadini ad essere responsabili delle persone più fragili, soprattutto degli anziani delle nostre città. Nei prossimi giorni chiedo alle parrocchie di organizzarsi per visitare con i loro gruppi, le RSA e le case di riposo, dove più forte la solitudine. Ha concluso Monsignor Ferretti.